Musica Una terribile notizia scosso lo sport mondiale. Osman Iunuzovic è morto a soli 27 anni il campione dell'atletica della Bosnia-Herzegovina e è deceduto improvvisamente nella tarda serata di ieri. Secondo quanto riportato dalla stampa bosniaca e in particolare dal sito SarajevoTimes.com la morte dell'atleta sarebbe da attribuire ad un'insufficienza cardiaca improvvisa. Campione di fondo e mezzofondo, famosissimo in patria, il 27enne aveva conquistato in carriera molti titoli tra cui la medaglia di bronzo ai giochi europei di Bacu nel 2015. Si era poi laureato campione dei Balcani nei 3.000 metri, campione della Bosnia nei 3.000 metri, 5.000 metri, 10.000, corsa campestre, mezza maratona e maratona. bronzo ai canali campioni di posto sono tutti i nostri alcuni qui sono inarciata campione della Bosnia-Herzegovina buona 15.000 metri,